Ok, adesso riuscite a sentirci? Tutto a posto? Mi fate dei segnali? Ok, allora, Alberto dicono che ora si sente. Ok, dobbiamo ricominciare o andiamo... ricominciamo? Non si sentiva dall'inizio, dobbiamo ricominciare o... Ah sì, mi dicono anche a me che non si sentiva nulla, quindi probabilmente dobbiamo ricominciare. Perfetto, scusateci per il pubblico tecnico. Ebbè, il bello della diretta. Il bello della diretta, esatto. Allora, quindi, oggi parleremo, la facciamo magari un po' più breve. Sì, certo, recuperiamo. Recuperiamo. Oggi parleremo appunto di Customer Journey e di tutti quegli insight che possono aiutarci ad ottimizzare i nostri contenuti per guidare al meglio e offrire la migliore esperienza ai nostri consumatori. Con noi oggi c'è Alberto Maestri, al quale chiederò di ripresentarti per la seconda volta. Ciao a tutti, spero stavolta ci sentiate. Nel caso, rimando a LinkedIn, mi chiamo appunto Alberto, lavoro in una società che si chiama Open Knowledge, che ha sede a Milano e a Bologna, che è parte di un gruppo, che è il principale gruppo di consulenza matrice italiana, Business Integration Partner, che ha una 2500 colleghi sparsi per il 25% anche in tutto il mondo. Come ruolo in Open Knowledge ho quello di Chief Content Officer, quindi mi occupo di una serie di tematiche legate al contenuto, al content marketing, alla customer experience, che poi vedremo sono temi strettamente correlati, più una serie appunto di altre progettualità. Storicamente, ormai sono in Open Knowledge da diversi anni, primo lavorato in altre società, storicamente mi sono sempre occupato di progetti di brand interaction, customer engagement e digital marketing. Parallelamente dirigo una collana che si chiama Professioni digitali per Franco Angeli, la prima collana dedicata alle professioni che io chiamo di oggi e domani, ovvero quelle di matrice digitale che stanno rivoluzionando il mercato del lavoro contemporaneo. Poi ho scritto una serie di pubblicazioni, in particolare cinque libri, di cui l'ultimo si chiama Customer Experience Design, è stato scritto insieme a un collega, Joseph Sasson, e è oggetto del tema appunto di questo webinar. Non mi soffermerei oltre e ti ridò la parola. Grazie mille. Io invece sono Anna Beduschi, mi occupo dell'attività marketing di Talkwalker, che è una soluzione appunto di social listening e analytics che opera in tutto il mondo, ha cinque sedi a livello worldwide, un team di oltre 230 esperti provenienti da tutto il mondo e 70 ingegneri data scientists che si occupano dello sviluppo della piattaforma. Giusto un paio di informazioni tecniche, a questo punto l'audio funziona, siamo operativi, e vi invitiamo assolutamente ad interagire con noi sul pannello di GoToWebinar che trovate sulla destra, non esitate a inviarci commenti, domande, alle quali poi risponderemo alla fine del webinar, che avrà una durata di circa 40-45 minuti. Entrando appunto nel vivo dei contenuti, andremo con Alberto a vedere più nel dettaglio cosa si intende per Customer Journey, come si sta evolvendo all'evolversi del contesto in cui sono immersi i nostri utenti, ci farà anche una panoramica su quelle che sono le principali metriche, i principali strumenti per ottenere gli insight più rilevanti, faremo un piccolo approfondimento sulle metriche che potete ottenere grazie al social listening e poi andremo verso la conclusione. Lascio quindi la parola a te Alberto e possiamo iniziare. Perfetto, questa volta davvero, grazie mille Anna ancora. Allora, come introducevo prima, faremo un'oretta insieme, appunto 40 minuti insieme, parleremo di Customer Experience, in particolare di Customer Journey, che sono un sottotema rispetto al paradigma più ampio e complesso della Customer Experience, però gioco forza quando si parla di esperienze, bisogna parlare anche di contenuti, di engagement, e quindi in qualche modo il tema farà un po' da volano per altre tematiche, per altri argomenti. Un tema che anticipavo essere caldo, oggi è sia sui banchi di scuola, tra virgolette, che scuola non è, nelle business school, piuttosto che negli uffici un po' di tutto il mondo, quello della Customer Experience è un tema molto chiacchierato, su cui si sviluppano anche una serie di quelle che io chiamo modi manageriali, quindi un po' di trend, di tendenze che poi hanno poco di solido, poco di sostanzioso, però il tema di per sé è molto molto importante, è molto molto strategico, è un tema di cui peraltro si parla da almeno 20 anni, perché i primi libri sulla Customer Experience, cito Pine & Gilmore per dare un primissimo riferimento, sono del, i primi articoli sono del 97, i primi libri sono del 98-99, quindi insomma ce ne siamo accorti da tanto, ma ci stiamo lavorando non da tantissimo, perché ci stiamo lavorando non da tantissimo, perché ci siamo accorti finalmente che i prodotti e i servizi in qualche modo sono sostituibili e si prestano molto di più appunto a sostituibilità, piuttosto che a concorrenza, mentre le esperienze sono memorabili, indimenticabili, ci rimangono impresse nella mente e quindi ci aiutano per fare quel salto di qualità proprio a livello di vantaggio competitivo o sostenibile. Ce lo dicono anche le ricerche, questa ad oggi a mio avviso è la ricerca più solida, nonostante abbia ormai qualche anno, che è stata commissionata da SAS ad Harvard Business Review, in realtà i team hanno lavorato insieme, l'area, il team di analytics di Harvard Business Review e SAS, che è una grande azienda fornitore di software, di analitiche, in particolare in ambito business, appunto questa ricerca, che appunto ci dà qualche lezione, che ci dà qualche lesson learned rispetto alla gestione della customer experience, ci dice che il 53%, per il 53% del campione intervistato, la customer experience garantisce un vantaggio competitivo, è una priorità strategica ovviamente, è normale che le due statistiche siano in qualche modo correlate, perché se garantisce un vantaggio competitivo non può non essere una priorità strategica, però la curiosità, un po' il paradosso, è che è difficile da gestire, è difficile connettere i risultati della customer experience con quelli di business, quindi gli executive, i manager, i decision maker riconoscono che la customer experience è una priorità, garantisce un vantaggio competitivo, poi nei momenti però in cui c'è da misurare, c'è da analizzare, c'è da gestire proprio a livello quantitative di metriche, in qualche modo ci sono delle problematiche, ci sono delle criticità, peraltro la ricerca è assolutamente a disposizione per chiunque, basta ricercare il titolo e si può leggere l'intera ricerca, l'intera survey in pdf. Quindi la customer experience è, lo dicevo, il cappello entro cui ci muoviamo con questo webinar che abbiamo pensato insieme ad Anna, e all'interno c'è il customer journey. Che cos'è il customer journey? Il customer journey viene definito in vari modi, se banalmente cercate su Google troverete n definizioni, anche sull'area immagini di Google troverete n risultati, quello che mi sembra il più solido è questo, il customer journey è la somma delle esperienze che le persone vivono quando interagiscono con la tua azienda o il tuo brand, quindi un'azienda o un brand. È interessante proprio perché non si parla più di touch point, ma si inizia a parlare per esempio di trust point, quindi di punti non più di contatto, ma di credibilità. C'è una grande sfida legato a, nell'era dell'intelligenza artificiale, nell'era di una serie di paradigmi tecnologici che stanno esplodendo, qual è poi il ruolo oggi del brand? È un ruolo che storicamente nasce per dare credibilità a un'offerta di prodotto, a un'offerta di servizio, ma che oggi viene discusso. Però noi rimaniamo su questa definizione che mi sembra interessante, perché appunto si parla di esperienze, si parla di somma delle esperienze e poi si parla anche di interazione, quindi alla base c'è quella che viene chiamata la brand interaction, quindi tutti quelli che sono le interazioni tra i pubblici e un'azienda on brand. Se parlassimo di customer experience, se parlassimo e se parliamo di customer journey, la prima domanda è, ok, ma indipendentemente da questa bellissima definizione che è una deletante. Perché il customer journey è così importante? Perché la customer experience è definita sostanzialmente strategica. Un pochino l'ho già detto, un pochino ce l'hanno già detto, anzi un tantino ce l'hanno già detto Pine and Gilmore da una ventina d'anni, piuttosto che altri ricercatori ed esperti come Eric Schmidt. Questa è la citazione di un professionista che si chiama David Merman Scott, che ha scritto soprattutto a cavallo tra fin anni 90 e inizio anni 2000, è stato uno dei primi a parlare di social media marketing, di digital PR, piuttosto che di influencer. È interessante perché David Merman Scott, anche qui da una quindicina d'anni, ci dice attenzione perché sostanzialmente del prodotto, del servizio, vi interessate solo voi, voi che lo producete, voi che lo distribuite. Al consumatore, o meglio alla persona, perché un altro grosso cambio è cominciare a parlare di pubblico e molto meno di consumatore di target, anche questo da qualche anno ormai ce lo diciamo, alla persona interessa salire sul tetto, non interessa la scala, alla persona interessa raggiungere una meta, non interessa il mezzo di trasporto in sé. E quindi è molto importante riuscire a mappare il journey, quindi il percorso che fa questa persona nella propria quotidianità per raggiungere il suo obiettivo, in modo da diventare utili, diventare indispensabili, entrare specificamente e in profondità nell'esistenza, nell'esistenza sostanzialmente delle persone. Questo è un cambio di mindset, un cambio di paradigma non banale su cui poi ritorniamo, ma che in qualche modo fa da fier rouge rispetto a tutto il webinar. Interessante anche è il fatto che il customer journey proprio come modello, proprio come forma, si ha evoluto nel tempo. Il customer journey in realtà nasce tantissimi anni fa, i primi modelli sono i primi framework, per esempio Aida è degli anni 60, nasce in ambito pubblicitario, dei grandi network pubblicitari ed è un customer journey naturalmente, stiamo parlando di modelli, quindi ci sono tantissime semplificazioni, però anche solo a livello di look and feel, se guardiamo questa slide, che è una rappresentazione generica e tipica del modello Aida, che è un acronimo che sta per attenzione, interesse, desiderio, azione, che sono i quattro step che separano appunto la persona da un'interazione di valore con il brand, quindi all'action finale, che tipicamente è un action di acquisto, piuttosto che di subscription, piuttosto che qualsiasi sia l'azione che voi volete fare intraprendere alla persona, sono modelli appunto che sono molto statici, lo vedete già dalla forma, sono modelli transazionali, vedete che c'è un inizio e una fine, si capisce subito che sono modelli di un mondo che non esiste più, sono modelli di un mondo in cui anche se il cliente veniva perso, a vantaggio di un competitor, non c'erano problemi perché c'era una tale abbondanza di domanda rispetto all'offerta di prodotto, economia in crescita, boom economici, pilla doppia cifra o anche a tripla, che non era importante in qualche modo perdere il cliente, il consumatore, c'era un continuo riflusso di persone, ecco perché sia la forma triangolare, poco a poco in funzione dei vari step, perdo persone in questo mio funnel, channel, quindi qua bisogna ragionare proprio in termini percentuali, 100 iniziano interessandosi del mio prodotto e in 5 lo acquistano effettivamente e poi appunto ha una forma che ha un inizio e una fine, ha una fine che può significare anche la fine della transazione e via a vantaggio di un altro customer perché appunto c'è una economia talmente abbondante e talmente ricca che non è un grosso problema. Un altro indicatore che ci fa capire che si tratta di un modello piuttosto obsoleto, a mio avviso è il terzo punto dall'alto che è quello del desiderio. Oggi noi per tantissimi prodotti non abbiamo più alcun desiderio di acquisto, non abbiamo più desiderio di acquistare la lavatrice, una cosa che per esempio 40-50 anni fa avevamo, non abbiamo più desiderio di comprare molto spesso anche una macchina, la macchina è vista sempre più come una commodity, non a caso c'è una viva, come dire, offerta di car sharing piuttosto che di leasing, piuttosto che di affitti di altro tipo. Non abbiamo più desiderio di acquistare tantissimi prodotti a parte quelli che oggi rimangono saldamente ancorati nell'area, nella fascia dello status symbol. Questo modello invece è di un'economia che fino ad allora non si poteva permettere del lusso di avere anche solo elettrodomestici piuttosto che altri apparecchi, posiziona come terzo punto prima di arrivare all'azione finale il desiderio, quindi dice quando il lead è caldo, quando il lead sta per acquistare, ha proprio un desiderio di comprare il prodotto o di sottoscrivere il servizio e via dicendo. Questo capiamo bene che è un'altra variabile che non è più assolutamente vera, non è più assolutamente aggiornata per la maggior parte delle offerte in cui ci muoviamo oggi. Ecco che allora rispetto agli anni 60, agli anni 70, dei primissimi modelli, dei primissimi funnel che possiamo definire dei proto framework di customer journey, abbiamo avuto delle evoluzioni. Una persona si chiama David Edelman, che era un ex senior partner di McKinsey, oggi è andato in un'azienda farmaceutica come chief marketing officer. David Edelman è stato uno dei principali studiosi a livello di consulenza, ma anche proprio in generale a livello global dei customer journey verso intorno al 2008, 2009, 2010, 2012 e ha fatto una serie di pubblicazioni su il tema del consumer decision journey, quindi ha anche un po' cambiato nome e ha introdotto una forma diversa dei customer journey, la potete già vedere proprio a livello geometrico, è una forma circolare, i customer journey non smettono di essere transazionali, ma viene presa in considerazione la parte di fidelizzazione che nelle economie contemporanee, la maggior parte delle quali non è più in crescita, ma è stabile o con delle mini crescite, è molto importante, costa molto meno tenere nel loop, fidelizzare un cliente rispetto a che acquisire uno nuovo. Ecco che allora lui ha introdotto un trigger e un loyalty loop, il trigger e il loyalty loop permettono di attivare il customer journey, avete modo leggendo la slide che sostanzialmente gli step sono sempre quattro, hanno cambiato un pochino i nomi, ma si parla sempre delle solite cose, quello che cambia proprio è che si attiva il loyalty loop, quindi c'è un grosso focus sulla fidelizzazione dell'utente e non solo sull'aspetto di tipo transazionale, ancora una volta il momento iniziale e il momento finale rimangono, non conosco nulla nel brand e nel prodotto a acquisto, il momento dell'acquisto. Brian Solis, futurologo, da tempo si interessa a tutto il tema dell'experience economy, ha scritto un bellissimo libro nel 2015 che si chiama X the Experience, adesso è uscito da poche settimane il suo nuovo che si chiama Live Scaling, però quello che mi interessa appunto è la sua penultima pubblicazione del 2015, perché? Perché anche una volta ha sviluppato ulteriormente il tema del customer journey e lo ha sviluppato mantenendo i quattro step, awareness, consideration, purchasing e experiences, quindi alla fine parliamo sempre dei quattro momenti che caratterizzano l'Aida da 40 anni, da 60 anni, da 50 anni, arrivare ad adesso, ma ha agganciato due cose interessanti. La prima sono i momenti di verità, i moment of truth, ne ha agganciati quattro, i zero moment of truth, smott, first moment of truth, second moment of truth e ultimate moment of truth. Quindi i zero moment of truth, lo avrete già letto, lo avrete già in qualche modo, vi sarete già scontrati con questo termine, deriva da ricerche Google, nate o meglio pubblicate a partire dal 2015, che citano come all'inizio di qualsiasi giorni c'è una ricerca tipicamente online, questo è il momento zero di verità. I momenti zero di verità sono quando io ho un'illuminazione, un'epifania, quando io ho appunto un trigger. Poi c'è il first e il second moment of truth, che se non ricordo male sono di casa Procter & Gamble, sono dei termini tipici del mondo retail, il first moment of truth è quando io sono nel retail, nell'ambiente retail, che oggi è sempre più digitalizzato, e mi accorgo fisicamente, visivamente del prodotto, banalmente perché il prodotto è ad altezza persona, quindi qua ci sono tutti i giochi e le leve promozionali, scaffali. E poi c'è il second moment of truth, sempre introdotto dalla multinazionale, che parla dell'istante in cui io comincio effettivamente a consumare il prodotto. L'ho acquistato, lo consumo, e solo in quel momento posso dire di essere effettivamente un consumatore del prodotto o anche del servizio. E solo in quel momento che cosa ci aggiunge Solis? Ci aggiunge una parte molto importante, appunto, che permette di connettere l'esperienza, la customer experience con il content marketing, solo in quel momento che io posso, sono libero, ho la facoltà di condividere esperienze al mio network, al mio pubblico, relativamente appunto alla mia esperienza di acquisto e di consumo. Quindi compro un phone su Amazon, siamo nell'area del purchasing, second moment of truth, lo provo, il phone funziona bene, metto 5 stelline su Amazon, piuttosto che scrivo una recensione positiva. Quello che dice Solis, ed è la cosa probabilmente più interessante di questo modello. Quindi questa è l'area dei contenuti. Noi condividiamo tutti i giorni i contenuti in forma di rating, di stelline, di valutazioni, di commenti, tipicamente peer-to-peer, quindi alla pari tra noi, rispettivamente alle esperienze che abbiamo avuto con i prodotti o i servizi. Quello che dice Solis è interessante perché dice che le esperienze che vengono veicolate attraverso i contenuti vanno a informare i customer journey di qualcun altro. Quindi diventano dei contenuti informativi, lui li chiama, che attivano appunto il customer journey di qualcun altro. È importante, facciamo un esempio, io nel momento in cui lascio una valutazione su Amazon del prodotto che ho acquistato, del phone che ho acquistato, ecco che qualcun altro sarà nel suo zero moment of truth, quindi partirà proprio da Amazon per capire quale phone acquistare, oppure da Google, dalle recensioni di Google o dai commenti nei forum, e il mio commento che tipicamente è la fase finale del mio customer journey serve da input, da il là o meno, nel caso sia negativo o neutrale, al customer journey di qualcun altro. Quindi la mia fase di output diventa input per qualcun altro. Ecco il motivo per cui sempre più si progettano dei sistemi, delle piattaforme digitali che fanno degli user generati content il grande cavallo di battaglia, perché servono continuamente a diventare una macchina esperienziale, una macchina di contenuto e in sostanza quindi una macchina di business piuttosto importante. È anche molto importante questa nuova definizione in qualche modo del customer journey, questa nuova codifica del customer journey di Brian Solis, proprio perché ancora una volta vediamo che sempre meno esiste la centralità del prodotto. David Mierman Scott ci aveva già una 15 anni fa, ci aveva avvertito, Solis lo ribadisce e addirittura lui parla del passaggio dagli ecosistemi agli ecosistemi, che è un passaggio piuttosto interessante. L'ecosistema sappiamo tutti cos'è, termine che viene dalla biologia, è stato poi applicato a una serie di altre tematiche, dall'organizzazione aziendale al marketing, al business, a tematiche più vicine a noi. Brian Solis dice all'interno delle nuove esperienze che noi continuamente condividiamo, siamo noi, siamo noi come punto centrale, siamo noi che su Instagram, piuttosto che su Facebook, piuttosto che attraverso i blog ci mettiamo in mostra verso la nostra audience, mettiamo in mostra quelle che sono le nostre esperienze con il prodotto, ma il prodotto non ha alcun ruolo centrale. Appunto lui parla di narcisismo digitale, di ecosistemi, sistemi in cui la persona è al centro, c'è il me, questa grafica in cui il me è posizionato in giallo, e poi intorno ci sono tutti quelli che sono i canali, piuttosto che sono le audience. I brand devono in qualche modo cercare di connettersi a questi nuovi ecosistemi e riuscire ad entrare nella vita delle persone che poi è scandita da questi ecosistemi. Capite il concetto di ecosistema, banalmente apprende in questo momento un canale come Instagram. Interessante perché? Perché ho avuto anche una double check con un mio contatto Facebook, una mia amica da cui ho preso questo screenshot a Natale, che aveva pubblicato questa grafica, che diceva quest'anno in cima all'albero di Natale metterò mio selfie, perché l'unica stella qui sono io. Quindi è interessante proprio per far capire il passaggio dall'ecosistema all'egosistema e un po' la difficoltà dei brand oggi di gestire, no? Si parla di customer experience management, di gestire la customer experience in toto. Rispetto sempre a quello che ci dice Brian Solis, capiamo come dobbiamo orchestrare, se noi siamo brand, se noi siamo aziende, contenuti giusti per il momento giusto. Sempre Google, ci va sempre più o meno dal 2015, forse anche un pochino prima, ha cominciato a parlare di micro momenti. I micro momenti, dice l'azienda, dice il colosso, sono attivati attraverso gli smartphone, che sempre meno servono per telefonare, sempre più servono per fare tutto, in particolare per attivare proprio dei momenti in cui noi abbiamo una insoddisfazione, abbiamo una necessità e cerchiamo in app, piuttosto che browser, insomma, attraverso tutte quelle che sono le modalità che ci vengono date a disposizione via mobile, in modo crescente via mobile, cerchiamo di risolvere queste nostre necessità. Google va a, dice, indipendentemente dai vari micro momenti che noi come persone singole possiamo attivare, ci sono quattro grossi cluster in cui possiamo raggruppare tutti i micro momenti di qualsiasi persona nel mondo e sono i momenti I want to know, I want to go, I want to do, I want to buy. Un tipico momento I want to know è sono in una, solo all'interno, non so, sono in una città nuova, entro in questa nuova via che ha un nome strano, capisco che ha un cognome, non conosco chi sia e vado su Wikipedia per comprendere chi è, che cosa ha fatto, perché è famoso, questo è un tipico momento appunto I want to know. Al contrario abbiamo i momenti I want to buy, voglio comprare un paio di scarpe rosse, vado su Amazon e cerco direttamente le scarpe rosse che fanno al caso mio. In mezzo ci sono degli altri momenti, per esempio le I want to go moment sono momenti molto fertili per quello che è tutto il tema del, per quello che è il tema del local business, quindi banalmente ristoranti piuttosto che i punti vendita dei retailer eccetera eccetera. Quindi capiamo come nel momento in cui noi condividiamo come brand o non riusciamo a capire i contenuti giusti, sbagliati che siano, rischiamo quasi di fare un disservizio all'utente. Se io per esempio come brand propongo contenuti che rispondono al I want to know moment, ma l'utente ha uno stadio evoluto del proprio customer journey, ha bisogno di contenuti che rispondano ai propri momenti I want to buy, ecco che quasi lo porto indietro, quasi li creo un disservizio. E il contrario, nel momento in cui io come brand cerco di vendergli qualcosa, ma il mio utente è ancora molto acerbo all'interno del suo customer journey e quindi ha bisogno di più informazioni, ha bisogno di essere, si parla di lead nurturing, ha bisogno di essere nutrito, scaldato man mano per riuscire poi effettivamente a convertire. Quindi la parola cosa diventa? La parola, proprio la parola, qual è oggi? È quella della rilevanza, la parola è rilevanza, bisogna essere rilevanti proprio e il customer journey, la customer experience si fonda proprio sull'imperativo di veicolare comunicazioni, interazioni rilevanti in funzione dei singoli step, delle singole fasi appunto del journey stesso. Rispetto a questo primo cappello introduttivo, è anche interessante ovviamente riconnettersi al tema principale di questo webinar e connettarsi subito al tema delle metriche e eventualmente anche degli strumenti, delle piattaforme che poi sono abilitanti. Oggi uno dei grandi dibattiti è quello sulla marketing technology, no? C'è un'esplosione di tecnologie di marketing e quindi è molto importante anche capire quali sono gli strumenti che effettivamente abilitano la corretta misurazione di KPI e metriche lungo la mappatura, la gestione dei customer journey e della customer experience. È importante perché le metriche non sono tutte uguali. Le metriche non sono tutte uguali, tipicamente ci sono tre, quattro scusate grandi famiglie di metriche, del content ma proprio anche del digital marketing che sono le metriche, le consumption metrics, le sharing metrics, le lead generation metrics, le sales metrics. Quindi sono nel primo caso tutte le metriche di consumo del contenuto, pensiamo alle pagine visualizzate, ai video guardati, podcast ascoltati, download effettuati. Naturalmente in ambienti digitali il consumo non è vero ma è un consumo simbolico, nessun file era mai danneggiato nel momento in cui viene ascoltato da dieci persone piuttosto che da cento. C'è poi tutta l'area delle metriche di condivisione, quindi questa è l'area preferita in ambito social media marketing, community management, quindi tutte quelle metriche che mi vanno a misurare quanto effettivamente il contenuto è diventato quello che si chiama la social currency, quindi moneta social. È riuscito anche ad essere viral, diventare virale, quindi sono tutte le metriche di condivisione, di gradimento dei contenuti, vari like, insomma tutta questa famiglia, tutto questo ambiente di metriche. Poi man mano che poco a poco ci spostiamo lungo il customer journey troviamo le metriche di lead generation, quindi le metriche che servono o meglio che certificano il fatto che il contatto da Mr. X è diventato lead, quindi è diventato un contatto più caldo, di un contatto più interessato al nostro mondo. Qua per esempio può esserci la subscription alla newsletter, piuttosto che l'invio di una mail di informazioni, di contatti. Infine, ma tipicamente per ordine di importanza, questa sta in prima posizione, è la famiglia di metriche legate alla vendita, quindi qual è poi il tasso di conversione del sito, quanti prodotti sono riuscito a vendere in media per giornata attraverso il mio e-commerce, quindi ci sono tutte una serie di KPI e metriche che mi vanno poi effettivamente a quantificare quanto i miei contenuti lungo tutta il customer journey sono andati a convertire. E riusciamo anche naturalmente ad agganciarci, vi dicevo prima il grande tema della marketing technology, riusciamo anche ad agganciarci tutta una serie di piattaforme, di soluzioni, di tool che abilitano la corretta misurazione. Queste metriche sono difficilmente misurabili, o meglio si potrebbe fare ma con effort enormi, a mano, manualmente, servono delle intelligenze, delle macchine o delle intelligenze artificiali che in qualche modo vanno a ottimizzare il lavoro, a sviluppare modelli predittivi, quindi a supportare al meglio, anche spesso a guidare il marketer o il CX specialist lungo durante il suo lavoro quotidiano. Grazie mille Alberto per questo, è davvero interessante, è stato un piacere seguirti finora in questa introduzione al customer journey. Io adesso, in questa panoramica, abbiamo visto che appunto un ruolo importante è giocato appunto dalle sharing metrics e hai anche menzionato Talkwalker appunto, tra gli strumenti che possono aiutare in questa particolare area. Io andrei quindi a fare brevemente alcuni esempi di dati estratti da Talkwalker che possono fornire diverse informazioni rispetto all'analisi, è un tipo di analisi che va laddove appunto parlavi di questo ego e qua è dove sostanzialmente si esprime l'ego e possiamo andare ad ascoltare quello che ci stanno raccontando i nostri consumatori. Inizierei con una dashboard che fa una carrellata di informazioni che possono esserci utile per analizzare le performance dei nostri contenuti e per aiutarci quindi anche in fase di ottimizzazione. Questa in particolare è una dashboard che prende in considerazione il brand Coca-Cola e ci fornisce diverse informazioni come ad esempio i contenuti, i device dove sono stati condivisi i contenuti, le tipologie di media dove il nostro brand è stato menzionato maggiormente, le tipologie di media dove abbiamo avuto il maggior numero di interazioni, le pagine ad esempio dove abbiamo avuto il più alto reach, quindi dove abbiamo raggiunto il maggior numero di persone e non solo quindi un'analisi dei canali, dei device ma anche proprio delle tipologie di contenuto perché ad esempio negli ultimi due grafici vediamo come ad esempio l'audience ha interagito più con i video piuttosto che con le immagini condivise su Twitter e anche come abbiamo gestito noi la distribuzione dei contenuti dividendo appunto tra immagini e video, quindi questo è molto importante nel momento in cui si va ad esempio ad ottimizzare e analizzare le performance della nostra strategia. Un altro scopo per cui è molto importante tenere in considerazione l'ascolto della rete è soprattutto quello dei consumer insights perché ascoltare i nostri consumatori ci permette appunto di capire quali sono i messaggi prodotti, come stanno interagendo e quindi dove possiamo andare a creare maggiore interazione, maggiore engagement con i nostri consumatori. Sulla sinistra ho voluto mettere questa immagine, questo video appunto, perché recentemente Talkwalker ha lanciato una nuova feature di video recognition, quindi è possibile andare ad individuare il logo del brand anche nei video che vengono condivisi online. Se prima era possibile andare ad analizzare testi e immagini, adesso è possibile anche andare ad analizzare la presenza del nostro brand nei video. Perché è importante? È importante perché ci permette innanzitutto di avere una visione totale di quella che è la presenza online, quindi non solo testuale, ma ci permette appunto in questo caso di andare a vedere cosa i consumatori stanno apprezzando del nostro prodotto, come lo stanno utilizzando e quali possono essere quei determinati argomenti che vanno a creare appunto per loro un'esperienza che si sentono poi di andare a condividere. Invece il grafico sulla destra è stato preso da un case study che abbiamo realizzato proprio con il team di Alberto di Open Knowledge e in questo caso invece è stata utilizzata un'altra feature in particolare, quella di image recognition per andare ad analizzare appunto i consumer insights relativi al prodotto pizza a livello europeo. Qua non so Alberto se vuoi aggiungere poi qualcosa tu sulla case study, su come avete utilizzato questi insights? Sì, aggiungo proprio un minuto. La sfida era veramente ardua perché il cliente ci aveva chiesto dove posso aprire il nuovo store. Il cliente è una catena, è una startup che però ha aperto una serie di pizzerie in giro nel mondo, quindi aprirà Shanghai fra poche settimane, la prima è a Venezia e appunto è in piano tutt'ora di aprire una sedia in Europa e ci ha chiesto dove posso aprirla. Quindi noi abbiamo utilizzato gli insight provenienti dai materiali visual, quindi contenuti visual geolocalizzati delle persone in tutta Europa. Abbiamo sviluppato un algoritmo in funzione anche di alcune specificità che il cliente, o meglio il prodotto A, quindi ci interessavano certi contenuti che raffiguravano certe tipologie di pizze salubri, salutari, vegane, vegetariane, insomma che andasse un po' più in profondità, però è stato potentissimo perché abbiamo apprezzato il potere proprio della visual intelligence e sono molto curioso adesso di provare invece tutto quello che è il mondo della video intelligence perché è esattamente quello che dicevo prima, ovvero sempre meno si parla dei brand, sempre più invece i brand vengono contestualizzati all'interno di una vita che però non prevede la loro citazione e quindi questi strumenti permettono di, attraverso il riconoscimento di forme, di pattern, permettono di veramente captare dove stanno i brand e come si posizionano nella vita delle persone senza che questi li citino. Assolutamente. Andrei avanti, perché un altro elemento che recentemente il nostro team di contenuto è andato ad analizzare è stato proprio anche l'utilizzo delle emoji, quindi abbiamo parlato di test, abbiamo parlato di immagini, abbiamo parlato di video, ma parte importante del linguaggio, di un linguaggio globale è sicuramente dato dall'utilizzo delle emoji. In questo caso, ad esempio, un'analisi che è stata fatta, siamo andati ad analizzare la presenza delle emoji relative ai gusti offerti nelle bevande di Starbucks negli ultimi 12 mesi, per vedere appunto cosa emergeva e è stato interessante vedere ad esempio che l'emoji fragola, strawberry, è stata sicuramente utilizzata maggiormente in aprile quando c'è stato appunto il lancio del nuovo prodotto, ma quello che è veramente interessante è vedere come nel corso dell'anno sia stato comunque il gusto più discusso, quindi questo è sicuramente un'analisi che ci porta a dire che questo comportamento degli utenti è stato consolidato nel corso dell'anno e quindi Starbucks ha un'informazione molto interessante su quello che potrebbe interessare maggiormente i propri utenti e sul quale può lavorare poi anche per future campagne, ad esempio. Un'altra informazione che possiamo avere dal social listening, dato che appunto Alberto ci ha parlato di diverse fasi, di diverse esperienze in questi giorni del consumatore, attraverso la social listening è anche possibile arrivare a un livello di dettaglio molto approfondito. Questo ad esempio è una query creata appunto attraverso l'utilizzo di operatori booleani e questo sostanzialmente è la tipologia di ricerca che viene inserita in piattaforma per far sì che poi si arrivino ad ottenere i grafici che mi dicono che forse ci sono ancora problemi di audio. Tu Alberto mi senti? Io sì. Adesso mi senti bene? Io ti sento e mi dicono che si sente. Ok, perfetto, perché stanno arrivando un po' di messaggi. Perfetto, no, confermano che si sente. Allora, quindi stavamo parlando di queste query, queste query che vengono impostate per appunto ricercare i nostri argomenti di interesse in piattaforma. In questo caso la query cosa ci può dire? Ci può far capire quali sono le intenzioni di acquisto degli utenti online, perché se metto questa query in relazione ad un brand, ad esempio, possiamo capire se hanno intenzione di comprare, se non hanno gradito particolarmente un nostro prodotto. In questo caso è molto esplicita, probabilmente i vostri consumatori non scriveranno o intenzione di comprare, però se ad esempio stavamo parlando di esperienze, se ad esempio mettiamo una query dove si dice love it, fantastico, insomma tutta una serie di espressioni che ci possono riportare a un'esperienza positiva, allora lì siamo in grado di capire effettivamente quello che pensano di un determinato prodotto, di un determinato servizio e via dicendo. Quindi si vanno ad indagare in maniera molto precisa le diverse esperienze, le diverse intenzioni che i consumatori esprimono in rete e questo è possibile farlo in maniera piuttosto dettagliata. Si possono anche andare ad analizzare sempre tramite il social listening, quelli che sono trend, eventi, celebrity più apprezzati rispetto a un determinato brand, a un determinato argomento. In questo caso si è andato a ricercare ad esempio sempre il brand Coca-Cola e si sono andati a vedere quali sono i temi che sono stati maggiormente discussi a livello mondiale rispetto appunto al brand Coca-Cola. Sono emersi diversi eventi come ad esempio la FIFA World Cup piuttosto che diverse celebrity come BTS in Corea, quindi tutta una serie di informazioni che in questo caso sono legati più ad esempio a un tema di sponsorship, a un tema di campagne, però possiamo andare a vedere quello che ha funzionato nel corso degli ultimi tredici mesi e eventualmente a trovare nuove informazioni, nuovi spunti per creare un contenuto che sia appunto ottimizzato a quello che viene apprezzato e viene condiviso in rete dagli utenti. Qua vedete che ci sono diverse lingue ovviamente essendo Coca-Cola un brand globale, questo è anche per far vedere appunto che quando si parla di ascolto della rete si parla veramente di un contesto internazionale perché ad esempio Toll Polker arriva ad analizzare 187 lingue diverse, però ovviamente che si possono filtrare poi ulteriormente con un livello di dettaglio notevole su lingua e country. Prima di passare alle sfide chiederei ad Alberto se vuole fare un breve wrap up di questa sezione e se ci vuole dire magari quali sono per lui gli insight veramente fondamentali quando appunto cerca di creare la strategia di contenuto per i propri clienti. Sì, quindi abbiamo visto l'importanza della customer experience, abbiamo visto come è cambiato il customer journey nel tempo, è stato reso complesso proprio dall'esperienza e dai contenuti che noi sempre più spesso condividiamo online e non solo, tra noi, con i brand, quindi è sempre più difficile parlare di customer journey e customer experience management. Con il tuo focus poi abbiamo anche, come dire, concretizzato il tema delle metriche del digital marketing e della customer experience che sono, che è fondamentale almeno a livello di famiglie tenere d'occhio. Sono aperte alcune sfide di cui poi tra pochissimo parlerò. Allora, ovviamente ogni strategia ha una sua vita, ha un suo verso, ha un suo corso, però due metriche sono piuttosto rilevanti oggi che hanno a che fare entrambe con la parola chiave rilevanza di cui ho parlato l'esera ai precedenti. La prima sono le metriche che ci consentono di capire qual è lo user intent, qual è il search intent. Quindi tipicamente noi sui motori di ricerca o piuttosto che all'interno di social network, che oggi sono dei veri e propri motori di ricerca. Facebook è in una posizione top, almeno nei paesi occidentali, rispetto a un suo utilizzo in quanto motori di ricerca e non solo social network. Quindi noi digitiamo una serie di query, facciamo una serie di ricerche online, attiviamo una serie di micromomenti e quello che è interessante capire è capire con che mindset, che cosa abbiamo in testa. Quando noi digitiamo online su Google, su motore di ricerca, pasta o pasta asciutta, che cos'è? Perché noi la ricerchiamo? La ricerchiamo perché vogliamo fare, vogliamo avere una ricetta, la ricerchiamo perché vogliamo acquistare, la ricerchiamo perché ci sono mille motivi che hanno a che fare con lo user intent. Quindi ci sono poi una serie di appunto metriche, una serie anche di tattiche, di tool che permettono di analizzare tutto questo mondo. Rispetto invece a quello che dicevi adesso, quindi più un tema di social listening, è molto importante capire anche la rilevanza in questo senso, ovvero capire e misurare un po' il gap, anche banalmente a livello di tech cloud, non dobbiamo essere troppo dei data scientist o degli analisti per farlo, però tra quelli che sono i temi, gli argomenti che vengono veicolati attraverso gli asset branded, la pagina Facebook piuttosto che l'account Twitter del brand, insomma attraverso una serie di canali branded e invece quelli che sono invece gli argomenti che vengono chiacchierati e discussi tra gli utenti. Si dice sempre che la brand reputation è ciò che si dice del brand quando questo non è nella stanza, ecco che capire il match o il mismatch tra questi due mondi, di cosa parla il brand e di cosa parlano gli utenti, aiuta a generare delle conversazioni rilevanti o in caso contrario a sollevare, a risolvere delle potenziali criticità, però sul nascere che è a mio avviso uno dei grandi plus di uno strumento come Talkwalker, comunque di uno strumento di alerting e listening. Non so se sono riuscito a risponderti in modo ok, in modo puntuale. Allora per salutarci, poi appunto spazio eventualmente a eventuali domande. Ci sono già, ti posso dire che ci abbiamo già. Perfetto, quindi posticipo il panino. Ci sono una serie di, o meglio ho posizionato alla fine di queste slide, di queste poche slide, una serie di sfide che a mio avviso sono quelle che con cui avremo a che fare quest'anno, poi insomma siamo già ad aprile però in questi mesi. Sicuramente il mobile, con il mobile è tutto più difficile, è difficile capire, avere una single view dell'utente, è difficile anche riuscire a proprio capire che cosa ha in testa l'utente, perché è tutto molto in real time, no? Si parla da qualche anno di mobile mind shift, quindi di come il mobile abbia un po' anche cambiato la testa delle persone. Ci sono poche frazioni di secondo che intercorrono tra ho un bisogno e cerco una soluzione attraverso il mobile per soddisfare questo bisogno che ha inventato questo termine, che è un team di ricerca di Forrester, una società di ricerca internazionale, ha chiamato mobile moment. E mobile mind shift proprio l'attesa di ricevere in ciascuno di noi, l'attesa di ricevere ogni informazione necessaria in modo contestualizzato e nel preciso momento del bisogno. Quindi sicuramente una prima sfida è quella del mobile, ma una sfida appunto che in qualche modo interseca il tema del mobile, ma che è una sfida a sé, è quella appunto della marketing technology qua. Vedete l'ultima mappatura di questa persona che si chiama Scott Brinker, che ha un blog che si chiama Chief Martech, che ragiona da anni sul marketing technologist e quindi sulle marketing technology. Vedete come lui ogni anno mappa tutte quelle che sono le tecnologie di marketing a disposizione in funzione di alcune attività che si vogliono fare o alcuni obiettivi che si vogliono raggiungere per i quali vedete le etichettine e i vari colori. Se voi vedete la mappatura anche solo di 3-4 anni fa, c'erano poche decine di soluzioni tecnologiche, adesso c'è una pletora, c'è uno scenario veramente complesso e veramente difficile da districare, quindi insomma bisogna anche capire come la macchina, come il tool può fare la differenza e qual è il tool migliore per aiutarci. Parlando di metriche, torna sempre poi di moda, ma ha ragione, il tema delle metriche, quelle che si chiamano vanity metrics, quindi metriche che fanno comodo a qualcuno, banalmente fa comodo metterne un report, fa comodo raccontarle al proprio capo, fa comodo raccontarle al cliente, ma che in realtà non dicono assolutamente nulla. Per spiegarvi, prima i vanity metrics sono il numero di fan, il numero di follower, sono ormai metriche che non dicono nulla perché in realtà bisogna capire qual è la qualità, poi avete avuto Matteo Pogliani in ambito influencer marketing, quindi insomma capiamo anche che la qualità dei creatori di contenuto è sempre più un tema di interesse. Per spiegare però questo argomento delle vanity metrics ho riportato una ricerca dati 2016, è una piccola ricerca su un campione ovviamente non significativo a livello statistico di parole chiave, di contenuti, in particolare di tweet, che però ha intagliato il tema della pesca, dell'emoji pesca. L'emoji pesca che noi utilizziamo spesso nel momento in cui, come dire, se noi la leggiamo da una prospettiva naif appunto di vanity metrics, diciamo cavolo, l'emoji pesca è molto utilizzata all'interno delle conversazioni e quindi io sono un fruttivendolo, baso la mia strategia di rifornimento e di product placement in funzione della pesca perché la pesca è molto utilizzata quindi vuol dire che verrà come prodotto molto consumato tra le persone. In realtà questa ricerca è andata a vedere come la pesca è molto utilizzata come emoji ma per ottenere dei significati che sono totalmente diversi al frutto in sé, quindi significati sessuali piuttosto che altre allusioni e questo secondo me, questo è un caso di quello che si chiama emoji hijacking, quindi prendo qualcosa e lo uso per obiettivi diversi rispetto al motivo per cui qualcosa è stato progettato, tipicamente si fa con gli hashtag, prendo l'hashtag di una campagna e lo uso in modo totalmente diverso, ecco, prendo l'emoji di una pesca e lo uso non per il suo significato letterale ma per intendere qualcos'altro, quindi attenzione, bisogna sempre avere un occhio analitico per andare a esplorare il vero significato della metrica, del numero, della statistica. L'ultima sfida, che è quella a cui probabilmente qualcuno avrà già pensato, è legata ai micro momenti, è legata al tema delle esperienze di Brian Solis. I micro momenti sono stati definiti anche business moment, cioè sono dei momenti fertili per attivare conversazioni business tra appunto un brand, un'azienda e degli utenti. Il problema qual è? Il problema è che si ragiona a piani mobili, non sono più rispetto a una programmazione di marketing di tipo tradizionale programmabili, quindi sono cose che succedono in tempo reale, quindi sempre più la tecnologia di marketing barra il mindset con cui noi ci approcciamo all'interazione con il pubblico deve essere un mindset che è una tecnologia che fa leva sul real time e addirittura non più sulle capacità reattive ma addirittura predictive. Io ho finito semplicemente come takeaway finale, ma anche in realtà anche un po' per riassumere quello che ci siamo detti in questa retta connessi, ho riportato un po' di passaggi, dal funnel, modello AI, dal journey, che vede nel loop un momento molto importante, dai prodotti e servizi alle esperienze, i prodotti sono sostituibili, le esperienze sono memorabili, ci dicono da vent'anni, dagli analytics all'insight, il dato di per sé, ce l'hanno detto anche le humanity matrix, non vuol dire niente, io devo estrapolare, è per questo che il webinar abbiamo deciso di chiamare anche così, insight, cioè vero significato dal dato, e qua non conta solo una capacità analitica in senso matematico, ma anche analitica di leggere più in senso sociologico, cioè di leggere il contesto, si dice che i community manager sono i più grossi sociologi contemporanei, perché hanno visto una marea di cose sulle pagine facebook, piuttosto che sulle account che devono gestire, dai micro momenti ai business moment, quindi il micro momento di per sé è un momento anche neutrale, un momento innocuo, bisogna trasformare i momenti di business con tutto quello che si porta dietro questa definizione, quindi un ragionamento a piani mobili, una difficoltà nel prevedere che cosa può succedere, e poi dal content al context, cioè le esperienze oggi continuamente, si parla anche infatti di real time customer journey, si parla di dynamic pricing, i contenuti oggi sono continuamente veicolati in rete, generano continuamente esperienze, ma queste esperienze devono essere continuamente rimodulate, in temporale, tarate sul contesto delle persone, ciò che è rilevante per me, non è rilevante per Anna, perché siamo in due contesti, almeno in questo momento, molto differenti, quindi come dire, questa è una grossa sfida per i marketer, contemporanei per tradurre modern marketer. Grazie mille Alberto, davvero, assolutamente. Grazie a te, grazie a voi. Allora, io andrei un attimo a riprendere le vostre domande, sicuramente c'era qualcuno che chiedeva se potevi fare un ulteriore accenno sulle metriche di lead generation, perché c'era appunto una domanda, adesso la recupero. Ok, chiede un attimo, se puoi dare un attimo un contesto su cosa si intende per metriche di lead generation e quali sono le principali. Allora, nelle famiglie di metriche mi sento di dire che non esistono delle metriche principali perché tutto dipende dal canale e dal tipo di progetto. Le metriche di lead generation sono tutte quelle metriche che attestano la generazione di un lead. Il lead è un contatto caldo, cioè è una persona molto vicina ad entrare nel mondo di marche a convertire, ma che non ha ancora convertito, non si è ancora trasformato in customer e quindi sono per esempio l'iscrizione alla newsletter, piuttosto che il numero, adesso poi faccio delle metriche anche molto semplici. No, era molto generale. Il numero di persone che ogni giornata richiedono informazioni sul prodotto, piuttosto che insomma sono tutte queste metriche che vanno a quantificare, a monitorare l'avvicinamento delle persone verso il prodotto, verso il brand, verso l'azienda, anche la subscription al blog, quindi a tutti i contenuti che vengono poi rilasciati, gli articoli di blog, insomma tutte queste metriche di avvicinamento. Ok, un'altra domanda invece sempre sia Emanuela che Sara chiedevano più, maggiori informazioni rispetto al video che è stato mostrato sulla video recognition. Da dove era preso? Quello era preso da un video di YouTube che era condiviso su Twitter e per quanto riguarda le fonti non viene analizzato YouTube direttamente, ma vengono prese invece le altre fonti come Twitter, web, Instagram per quanto riguarda alcuni account business. Comunque se volete maggiori informazioni su questa feature nello specifico potete andare sul nostro sito dove appunto trovate maggiori informazioni proprio anche del prodotto. Il video in particolare era YouTube condiviso su Twitter. Poi andiamo a pescare le ultime. Chiede Mena invece come costruire la dashboard che si è vista tra le share in mezzo. Ok, per quanto riguarda la dashboard è stata creata custom su Talkwalker, quindi in realtà era proprio l'interfaccia del tool e si possono anche creare in maniera customizzata rispetto a quelle che sono le metriche di interesse rispetto alla strategia e agli obiettivi appunto del cliente. Allora, Alberto arrivano anche delle congratulazioni per il webinar. Ed è Barbara che dice che ha molto apprezzato l'evidenza del legame tra experience and content management, quindi grazie ancora Alberto per il tuo contributo che è stato effettivamente apprezzato. Ho visto che state cominciando ad uscire, domande più o meno sono, erano queste, poi le guardo poi meglio, però mi pare riguardassero effettivamente dettagli abbastanza specifici, quindi in realtà possiamo anche rispondere successivamente e non esitate a contattarci tramite tutti i nostri canali, se volete ulteriori approfondimenti. Direi che siamo stati più o meno in tempo. Un'altra, aspetta, l'ultima precisazione che le sto passando. Se siete arrivati in ritardo non c'è problema perché vi manderemo appunto la registrazione e la presentazione del webinar, quindi assolutamente Stefano, nessun problema. direi che ci siamo, sì, assolutamente. Vi aspettiamo allora al prossimo appuntamento e grazie ancora Alberto per il tuo preziosissimo intervento oggi. Grazie Anna, grazie a tutti voi, buona giornata. Grazie, ciao.